Se si desidera creare profili di accesso per le aziende in ePassan Manager, si inizia facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso, quindi su Aggiungi un profilo di accesso. A questo punto, inserite un nome per il profilo di accesso, e selezionate l'azienda per cui è stato creato. Scegliere poi i negozi a cui questa azienda avrà accesso. Infine, fare clic su Salva. A questo punto il nuovo profilo di accesso dovrebbe apparire sul lato sinistro.